Ecco come i film Disney manipolano il comportamento dei nostri bambini. Mentre i bambini si rallegrano della presentazione positiva e colorata del mondo fantastico della Disney, vengono loro al contempo magnificate per versione sessuale e la venerazione di Lucifero tramite cosiddetti messaggi subliminali, ovvero messaggi a livello del subconscio che stanno al di sotto della percezione naturale. Per farlo vengono intenzionalmente nascoste nelle sequenze delle singole immagini, che si vedono soltanto per alcuni millesimi di secondo, come ad esempio il saluto satanico, simboli fallici e posizioni sessuali. Anche la nascita grafica di una figura Disney si basa spesso su scarabocchi perversi, i quali danno alle figure definitive il loro contorno particolare. Degli esperti concordano sul fatto che tali tecniche manipolano il subconscio infantile senza che essi se ne accorgano e che si ripercuote in modo persistente sul loro comportamento. È evidente che dietro alla scintillante facciata Disney si nasconde la tattica del cavallo troiano, con l'intento di improntare al più presto possibile il comportamento sessuale dei bambini e predisporli per il satanismo. Un si fiu satanismo empfenglich zu machen. Un si fiu satanismo è un'espera di 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 un'es Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.